Le tre rose di Eva 4, trama, settima puntata. La scoperta di Veronica. Le tre rose di Eva 4 giunge alla sua settima puntata, la cui trama avrà come protagonista principale, il personaggio di Veronica, che farà un'importante scoperta molto incisiva sulle attuali situazioni che racconta la fiction di Canale 5, che nonostante qualche perdita di percentuale nello share, rimane sempre molto apprezzata dai telespettatori italiani. Le nuove anticipazioni sulla settima puntata delle tre rose di Eva 4, oltre che i personaggi di Veronica e Marzia, riguardano ovviamente anche i protagonisti principali della fiction, ovvero Aurora, Anna Safroncic e Alessandro, Roberto Farnesi. I due infatti pare non siano ancora destinati a nessun riavvicinamento e la settima puntata delle tre rose di Eva 4 li vedrà molto distanti, poiché rimarranno separati per diverse motivazioni. In primis l'arresto di Alessandro, che mentre è in carcere, prova in vano a capire come fare ad essere discolpato dal tentato omicidio della moglie di Edoardo e da altri misfatti a lui attribuiti. Alessandro, tra tante sfortune, non smette nemmeno di pensare a come potrebbe allontanare Aurora da Fabio Astori, da lui considerato una vera e propria minaccia per la sua amata. Intanto la trama della settima puntata delle tre rose di Eva si sposta sulle vicende di Tessa, che nella sua vita sta affrontando dei cambiamenti molto importanti, grazie ai momenti felici e spensierati. Vissuti accanto ha ritrovato padre, che tratta la figlia con molta premura e si dimostrerà sempre più volenteroso, di riunire la sua famiglia e dimostrarsi un valido genitore. Trama, settima puntata, le tre rose di Eva 4. Veronica scopre uno scioccante videomessaggio. Durante la settima puntata delle tre rose di Eva 4, Veronica sarà al centro della trama. Infatti la donna elaborerà un piano a dir poco diabolico facendo delle ricerche e scoprendo un videomessaggio memorizzato nello smartphone di Ivan. Pare che quest'ultimo fosse cercato dal colonnello Astori, informazione di cui prima non si era saputo nulla e che ora Veronica userà per incastrare Vittorio. Intanto durante la settima puntata della fiction sarà presente ancora una volta la suspense che riguarda il passato di Eva, con tutti i suoi misteri ancora da svelare a pieno. Riguardo a questa situazione ci sarà un altro personaggio che farà delle ricerche e verrà a conoscenza di nuove verità. Si tratta di Marzia. La donna focalizzerà la sua attenzione sul passato della sua famiglia per arrivare a capire chi era davvero sua madre, andando a cercare preziose informazioni in un piccolo albergo vicino la vecchia diga di Villalba. Le intenzioni di Marzia, ostinata a fare chiarezza su ciò che non conosce, sono quelle di capirne di più sulla relazione che la madre ebbe con Astori. E stando a questa ricerca, i segreti di Eva pare ne siano destinate a riaffiorare pian piano, in modo sempre più tormentato. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.